Buonasera, allora possiamo prendere posto, così, buonasera, bentrovati allora a questo terzo incontro delle voci della filosofia. Io dico semplicemente che questi incontri sono stati organizzati dalla fondazione del Corriere della Sera come, diciamo così, approfondimento, come momento anche pubblico in occasione della nuova edizione dell'Enciclopedia Filosofica che viene allegata al Corriere della Sera ed è stata, diciamo così, allegata a partire dal 21 ottobre. Saranno 20 volumi, sarà l'edizione più ampia, più completa, compresi gli indici di quella edizione che è uscita nel 2004 da Bonpiani ma che ebbe una prima sua edizione nel 1958 presso la Sansoni. È l'Enciclopedia Filosofica più vasta, tra l'altro, che oggi si ha a disposizione, realizzata proprio da generazioni di studiosi, da generazioni di filosofi, è stata rinnovata nelle voci e in tutto. Ecco, questa operazione ci consente di approfondire taluni aspetti, certe particolarità e quindi queste quattro sere, diciamo così, hanno cercato di esaminare l'aspetto della conoscenza, l'abbiamo sentito con Antiseri e Vattimo, la seconda serata, ieri è stata dedicata alla bellezza con Ferraris e Bodei e questa sera è il tema dei temi, il tema di Dio, il tema intorno al quale ruotano le civiltà, ruotano i pensieri, ruotano in fondo le filosofie. Tutto sommato è il tema dinanzi al quale ognuno di noi si sente un po' smarrire e però attenzione, questa sera noi non parleremo di religioni, parleremo del Dio dei filosofi, cioè di quella ricerca che in fondo è cominciata oltre due millenni e mezzo fa per cercare di arrivare attraverso la ragione oppure con anche altri aiuti, poi c'è stato anche tutta una serie di intersecarsi tra le religioni, le filosofie eccetera eccetera intorno al tema appunto di Dio e gli ospiti di questa sera di fronte a un tema così importante non potevano essere un po' che i protagonisti, anche in un dibattito che va avanti da decenni e sono il professor Giovanni Reale, lo conoscete per chiara fama, così come il professor Severino lo conoscete per chiara fama, direi che non hanno bisogno di mie presentazioni, io ricordo soltanto che il professor Reale nel 1968 tradusse la metafisica di Aristotele e fu la prima edizione, oggi non so a quante edizioni è arrivato professore, ma traducendo la metafisica di Aristotele chiaramente rimetteva nel dibattito dei filosofi in gioco il tema del Dio di Aristotele, il tema del motore immobile, il tema del Dio che aveva accompagnato in fondo il cristianesimo e anche l'islamismo ma anche per certi aspetti altre forme religiose per secoli, il Dio discusso dai filosofi arabi a Parigi, il Dio discusso da Tommaso d'Aquino, il Dio discusso da molti altri, il Dio che molti hanno cercato di demolire, veniva di nuovo con una nuova traduzione rimessa in campo. E poi Emanuele Severino, anche egli, io mi sento smarrire quasi nel presentare Emanuele Severino, dico soltanto che è un maestro dinanzi al quale insomma le parole sono un po' vane ma il tema di Dio l'ha affrontato in molteplici delle sue opere, senza condare che ha dedicato un libro a Leopardi nel quale ha diretto anche egli una storia della filosofia, ha scritto numerosi libri di filosofia, tenete presente che Adelfi addirittura ha una collana con le opere di Emanuele Severino e Rizzoli pubblica diciamo quelle che sono le sue opere più divulgative, ma questo tema è costantemente presente nelle sue attenzioni e nelle sue analisi, Severino dedicando questo libro a Leopardi riuscì a dare, si può dire, una specie di indicazione al lettore dicendo stati attenti con Egel, Dio è ancora presente, Egel tiene delle lezioni sull'esistenza di Dio, con Leopardi il problema quasi sembra tramontato, Dio non c'è più. Qual è successo in quegli anni? Si pone delle domande inquietanti, belle, affascinanti, alle quali poi risponde in altri articoli, in altri libri, in altri saggi, ma non è però questa sera che io posso fare una bibliografia e se la dovessi fare tutto quello che ha pubblicato Reale, il suo Platone al 33esimo edizione, una cosa quasi vergognosa, doverla raccontare tutta con le aggiunte eccetera, e dovessi anche raccontare quello che riguarda il professor Severino, ogni tanto magari girando per la Germania trovo una storia della filosofia italiana, i filosofi italiani che contano e vedo la faccia di Severino, allora ecco che l'abbiamo comperata e subito ho interrogato il professor Severino, dico professore tenga presente che lei ha emesso dopo Vico, cioè per i tedeschi la storia della filosofia italiana ha alcuni autori tra cui Machiavelli e si arriva a Vico, dopo Vico c'è Severino, ecco questo non è un giudizio di un suo allievo, di un altro, ma di un professore tedesco e quindi siamo di fronte a due protagonisti del dibattito e io a questo punto lascerei loro la parola, lascerei loro la riflessione perché tutte le mie parole e tutto quello che io posso aggiungere sono poca cosa. A una persona che ovviamente ha una grande esperienza di grande navigatore nella storia della filosofia come il professor Reale lascerei la prima battuta e poi ascolterei da quello che è considerato il filosofo italiano per eccellenza, il maestro di molte generazioni, la replica per poi instaurare questo dibattito. Professor Reale. Allora io presenterò una linea di interpretazione che è poco conosciuta e parto addirittura da Martin Heidegger, il quale scrive, dunque innanzitutto di Heidegger è bene che dica che da molti erroneamente è considerato un ateo e Jean-Paul Sartre lo metteva addirittura al capo come capo della corrente ateistica e invece sentite cosa dice Heidegger, soltanto un uomo che ha esperienza religiosa può comprendere la vita religiosa poiché altrimenti non disporrebbe di alcun dato genuino. E aggiunge anche un particolare molto bello rivolto a chi si occupa di religione non avendo questa esperienza. Giù le mani, hende weg, per colui che non si sente nel giusto terreno. È una presa di posizione che ha scandalizzato molti che lo ritengono ateo, ma nella seconda intervista che ho fatto a Hans-Georg Gadamer, che è il suo più famoso allievo, gli ho posto questo problema e mi ha detto che per tutta la sua vita Heidegger ha cercato Dio, il suo Dio che non è quello cristiano e gli ho domandato e poi secondo lei l'ha trovato, della prima parte era categorico, tutta la vita l'ha cercato, nel secondo ha un po' attenuato e dice forse sì, forse sì, ma questa è la posizione che di solito non viene capita, non viene accolta. Allora chi non ha l'esperienza religiosa quando parla di Dio non sa di che cosa parla, ma vorrei tornare a una posizione di Agostino che per prima ha detto la cosa molto bene e che per i filosofi è determinante. Dio è gran gunga al di sopra di noi e noi di gran gunga al di sotto di loro. Che cosa dunque dovremmo dire, fratelli di Dio, se infatti ciò che vuoi dire, tu credi di averlo capito, non è Dio. Se non l'hai capito allora è Dio. Allora se dunque lo hai compreso, Dio non è così come l'hai compreso, se invece è così non lo hai compreso. Guardate che stupendo questo. La posizione di Agostino che è quella che io condivido è questa, tu puoi parlare di Dio solo se parti avendo una fede, credo ut intelligam e poi l'approfondisci, intelligot credam. È un circolo ermeneutico stupendo che commenta lui così, vero? Se tu vuoi arrivare a capire Dio prima di avere la fede, non capirai Dio e non avrai la fede. Questa era la sua posizione. La frase che riassume il suo pensiero è potente questa. Dio può essere desiderato, può essere bramato, può essere sospirato, non può essere pensato in modo conveniente né spiegato. E guardate che la posizione di molti filosofi invece è purtroppo quella di credere, di averlo pensato in modo conveniente, di averlo spiegato. Ma la risposta ce la dà, ed è molto bella, il grande Paraison, il quale ha sostenuto una tesi che non circola molto, ma che a mio modo di vedere tocca il problema. Concepire Dio in termini concettuali significa definire in base a categorie elaborate dalla mente umana e attribuirgli proprietà che direttamente o indirettamente ineriscono all'uomo sia pure estremamente raffinate e astratte. Concepire Dio in questo modo, cosa vuol dire? Vuol dire concepirlo a misura d'uomo, che conferisce tale concezione alla divinità un carattere sostanzialmente, attenti eh, anche se larvatamente antropomorfico. Ma poi il passo più forte è il seguente. Allora, dice, la fonte da cui l'uomo può trarre un'idea di ragione, razionalità o persona, personalità, è la stessa esperienza interna, in generale, i concetti filosofici sono pensati dalla mente umana ex analogia o ominis. Ne consegue che definire filosoficamente Dio come ragione, persone, attribuire concettualmente la razionalità, la personalità in generale, designarlo con un concetto filosofico o pensarle con categorie filosofiche, è in realtà, attenti eh, molto più antropomorfico che non farsi di Dio una rappresentazione chiaramente simbolica, allusiva, magari anche in forma vistosamente umana. C'è che i concetti e le categorie, pur mostrandosi come rigorosamente razionali e completamente disumanizzati, non riescono a dissimulare interamente, come vorrebbero, la loro origine analogica e in ogni caso finiscono con chiudere l'inoggettivabile in un sistema di categorie oggettivistiche e oggettivanti. L'antropomorfismo concettuale risulta quindi tanto più antropomorfico dell'antropomorfismo simbolico, perché questo dice di essere simbolico e l'altro invece in modo inconfessato nasconde la cosa. Allora facciamo un esempio, sempre una argomentazione diciamo malvagia, uno può dirmi, ma Aristotele non ha detto su Dio una cosa stupenda, forse è la pagina su Dio più sublime che il pensiero greco ha scritto nell'odicesimo della metafisica. Ma attenti bene, se analizzate quel passo in cui dice che Dio è pensiero, pensiero di samedesimo, del perfetto, che vive in modo felice in questa autocontemplazione come noi talvolta soltanto facciamo, ebbene se lo ha esaminato in controluce molto bene, ma accorgerete che in realtà quel Dio è la divinizzazione, la sublimazione di quella posizione del filosofo che era quella di Aristotele. Vi dico un particolare che mi ha molto colpito, ad un certo punto il rettore Lazzati mi ha chiamato e mi ha detto professore devi andare a fare un esame nella galera perché l'individuo ha commesso cose tali per cui non gli danno il permesso di venire a fare l'esame neanche accompagnato dai carabinieri e la prego di accettare. Ho accettato, sono andato a fare l'esame, il sabitore era molto preparato perché stava diciamo convertendosi e il tema era il dodicesimo della metafisica e alla fine mi ha chiesto la parola, mi ha detto posso parlarle? Dico certo, io non sono affatto d'accordo con questo Dio perché cosa c'è scritto di questo Dio poco avanti da questa descrizione stupenda che appunto perché è perfetto non si può occupare se non di sé come perfetto e delle cose inferiori non si occupano a meno che mai dei malvagi, dice se Dio fosse questo io sarei per sempre perduto e io ho detto ma io non sono affatto d'accordo con Aristotele, è storia della filosofia, spieghiamo chi è il pensiero di Aristotele e mi ha chiesto ma allora lei che cosa pensa di Dio? La penso come la pensa esattamente Pascal e Kierkegaard, ecco ma tocchiamo adesso due filosofi che hanno quell'esperienza religiosa e di cui parla Martin Heidegger, ecco sentite questo, questa frase a quel ragazzo che mi ha commosso è che Cristo non trovo mai un uomo tanto misero che gli impedisse di entrare in lui con gioia, mai un uomo tanto insignificante da non voler collocare la sua dimora nel suo cuore e così neanche mai, ecco ha renegato la sua autorità, allora non esiste un uomo tanto insignificante che Dio dica ecco, è rimasto colpitissimo quel ragazzo e poi ho detto senta lo stesso Pascal, parla di Dio in maniera del tutto diversa da quella aristotelica, cioè in questo rapporto. E allora ecco quello, ci troviamo di fronte allora a due tipi di filosofi, quelli che hanno una fede e quindi parlano di Dio con la fede in quel circolo ermeneutico di cui vi ho detto Agostino essere e troviamo invece quegli altri che spogliano Dio di tutto quello che invece ti dà la fede e lo rinchiudono in sistemi concettuali e mi ha molto colpito uno dei più grandi pensatori vissuti, Hegel, il quale ha una obiezione, dunque ricordo che in Germania c'è il seminar per gli addetti alla filosofia e c'è la lezione pubblica, c'era, non è più adesso così come un tempo, alla lezione pubblica andavano tutti a sentirlo e Hegel è bravissimo come comunicatore e infatti le sue forlesung, le sue lezioni scritte dagli allievi sono di gran lunga le pagine più belle sue. Bene, una volta in una discussione una donna alza la mano e dice ma lei dice il contrario di quel che dice il Vangelo e lui ha risposto esattamente questo, guardi che il Vangelo dice quello che dico io, solo che il Vangelo lo dice male e per rappresentazione, io lo dico per concetto, in maniera concettuale e del resto la sua posizione è esattamente questa, la religione è indispensabile ma è superata e inverata dalla filosofia e precisamente dalla sua filosofia, questa era la sua posizione, dice addirittura nelle prime pagine dell'introduzione alla fenomenologia che lui, Hegel, aveva un compito ormai determinante, farla finita con la filosofia e presentare la sofia, ecco e la scienza e non la filosofia, ecco e qui il grande Platone che l'ha detto dire che colui che cerca la verità è sofos, è sbagliato, sofos è Dio, chi cerca, cioè il filosofo, ecco è lui che ha canonizzato questa parola, è l'amante, l'amico del sapere, il ricercatore, la mia posizione è esattamente questa, cioè io credo che l'uomo è homo viator e che la sua filosofia sia la filosofia di uno in viaggio verso la verità, non credo che, ecco, Severino magari mi confuterà che uno possa dire io sono sicuro di avere la verità in assoluto e cioè questa è appunto la posizione di Hegel che dice che la filosofia che lui presentava era l'autoconoscersi di Dio, ecco esattamente. Allora dicevo, la posizione che mi ha molto colpito è esattamente quella di Kierkegaard che era un avversario terribile di Hegel, dice addirittura che quello che ha considerato da molti il suo capolavoro la logica, è una beffa, dice se avesse detto che stava scherzando sarebbe un capolavoro assoluto la logica, invece l'avendo presentato in quel modo diventa una specie di beffa, dice così vero Kierkegaard? Ma allora dicevamo, vogliamo leggere la cosa più sconcertante, allora abbiamo letto che non c'è una cosa piccola che Dio disprezzi, anzi, noi lo sappiamo, c'è un rovesciamento, un capovolgimento del meraviglioso concetto di Eros che Platone ha presentato e io ho dedicato parecchi anni della mia vita a fare i due capolavori sull'Eros, quindi li conosco magnificamente e li adoro, però mi ha proprio fatto capire il suo contrario, allora cosa dice Platone? Che l'Eros è acquisitivo, è una forza di prendere e possedere che cosa? Ciò di cui tu sei mancante, a livelli sempre crescenti e che l'amore è tanto più forte, più grande, quanto più grande è l'oggetto che tu ami. Questa è la posizione di Platone, descritti in una maniera sublime, semplicemente la ragione umana non ha mai raggiunto livelli superiori. Bene, il cristianesimo capovolge completamente, capovolge completamente, quindi qui il problema è, sai la fede, capisci se non ho, la fede dice il contrario, dice che l'amore è più grande in maniera inversamente proporzionale all'oggetto che ami, quanto più piccolo è l'oggetto, quanto più forte è l'amore. Allora vi leggo come Kierkegaard ha capito perfettamente questo, che alcuni naturalmente le spingono e dice, il sillogismo è questo, l'amore, cioè il vero amore, non l'amore proprio di chi ama soltanto quello che è egregio, eccellente e quindi in fondo ha solo se stesso, è in rapporto inverso alla grandezza dell'oggetto amato, se quindi io sopprio, sono una nullità, se la mia miseria, mi sento nella mia miseria il più miserabile di tutti, il miserabile, bene, allora è certo che Dio mi ama, guardi che fortissimo, e aggiunge, Cristo dice, neppure un passero cade a terra senza la volontà del padre, o io faccio un'offerta più umile ancora davanti a Dio, io sono ancora di un passero, ma allora sono certo che Dio mi ama. E poi dice addirittura un altro particolare, all'epoca sua il personaggio più grandioso era lo Tsar di Russia, e qui dice, dello Tsar di Russia, Dio può anche disinteressarsi perché è così grande, ma non di un passero, ecco, l'amore si rapporta inversamente proporzionale alla grandezza e all'eccellenza dell'oggetto. Ecco, allora mi ricordo che spiegando questo a dei giovani, un giovane che si è dimostrato molto intelligente e sveglio, mi ha detto, professore, lei mi commuove, però non posso credere che sia vero questo, Amido Caleno mi dia un esempio, uno solo, oggi, che è capace di amare così, in questo modo. Beh, io non ho avuto dubbi, dico, Maria Teresa di Calcutta, esattamente che cosa ha fatto Maria Teresa di Calcutta? Tre minuti ancora? Eh? Sì. Eh, tre minuti. Allora, dice esattamente questo, che ha dedicato la sua vita a raccogliere le persone, diciamo, alla fine, che erano i più poveri dei poveri, addirittura pensate che raccoglieva dalle fogne delle persone buttate lì a morire, cose di questo genere, cose di questo genere. Ma, direi, va leggermente al di là dello stesso Kierkegaard, perché la domanda a Kierkegaard è questa, ma perché Dio ama di più chi è piccolo? C'è una spiegazione? Bene, sentite la grande, il grande personaggio di cui stiamo parlando, dice sì. Sai perché? Perché nel piccolo, in quel misero, è, come dire, un proseguimento della passione di Cristo. C'è Cristo stesso. E in una sua poesia, guardate, se la trovo ve la leggo perché è veramente stupenda, e addirittura capovolge esattamente il modo di pensare che, torno a dire, è difficile che uno riesca a capire se non entra. Ecco, sentite, Cristo chi è? Dice Cristo. È l'uomo che trovi per strada che non è andato a mangiare. Cristo, addirittura, arriva a dire, è la prostituta che devi cercare di salvare. Cristo è tutti questi, il più poveri dei poveri, e io, ecco, dedico a questi poveri tutto, perché in essi vedo Cristo e la prosecuzione della sua passione. Bene, allora qui torniamo, allora, e concludo. Queste categorie non entrano in schemi concettuali, metafisici, astratti, che lascino da parte la fede, e qui Heidegger è insuperabile. O hai un minimo di esperienza religiosa, oppure non hai il contenuto. Io dico anche in generale così, quando io parlo ad un cieco di colori, il cieco non mi può capire, perché gli manca l'oggetto. Quando parlo di musica ad un sordo non può capirmi, perché gli manca l'oggetto, la cosa. E allora direi che molti grandi filosofi, anche, per esempio le pagine di Spinoza, che sono sublimi, in certo senso, ma sono una chiusura antropomorfica, in senso elevatissimo, di cui parla Paraiso. Ecco, ho finito il quarto d'ora, andrei avanti molto, ma può passare. 20 minuti. Grazie, professor Reale. Io adesso lascerei la parola a professor Severino, anche per una sua riflessione. Ha utilizzato 20 minuti, ne ha quindi un pochettino in più. Ecco, prego. 20 minuti, professore. Poi iniziamo un dialogo. Allora, innanzitutto grazie all'organizzazione e poi all'amico Torno, che ha scritto dei libri interessanti su Dio. Eh? Eh no, qui siamo tutti lodati, anzi io ringrazio per l'amabile presentazione che mi riguarda. Ma anche il dottor Torno ha scritto dei libri interessanti mettendosi sull'onda di Pascal. Sì. E dirò che è impossibile parlare del Dio dei filosofi senza parlare del Dio mitico. Se non si parte da lì non si capisce che cosa è stata la filosofia. Ma senz'altro mi trovo d'accordo, o il dottor Torno si trova d'accordo su questa mia osservazione. E si potrebbe anche pensare che con i tempi che corrono qui in questo riunione che ci si mette a parlare di Dio sia un po' insomma discutibile, superflua. Ci sono i problemi concreti, i problemi politici, economici. E innanzitutto i problemi affettivi. Che cosa ne è di me? Cosa faccio della mia esistenza? E quindi sembra il discorso su Dio così una superfettazione così da intellettuali. C'è vero di mezzo il fatto che le religioni monoteistiche oggi sono quelle che ci danno più preoccupazioni proprio in nome di Dio. E le preoccupazioni sono il carattere economico-politico. C'è vero di mezzo questo. Ma vorrei richiamare la loro attenzione su qualche cosa di più sostanziale. Per quanto riguarda il senso di questa parola, Dio, che poi è una parola. Poi si tratta di vedere che cosa sta dietro questa parola. Direi che il significato dei fondi è perfino troppo umano. E basta riflettere sulla circostanza che ciò di cui tutti noi, più o meno esplicitamente, più o meno consapevolmente, ciò di cui abbiamo paura, ciò che facciamo di tutto per allontanare il più possibile, ciò che facciamo di tutto per vincere, è il dolore e la morte. Non ci sono altri ostacoli che possano essere tenuti a questo rango. Dolore e la morte. Da sempre, da quando l'uomo vive, non vuole soffrire e si meraviglia di morire, perché si abitua un po' con la volta alla morte. Non è che, oggi noi sappiamo, uno muore e lo si porta al cimitero. No, l'uomo arcaico ha dovuto imparare un po' alla volta che quella cosa lì, che poi è stata chiamata cadavere, cadavere vuol dire che è caduto giù, e ha dovuto imparare un po' alla volta che quella cosa lì che non si muoveva più era difficile recuperare, ha tentato per millenni di intrattenersi con i resti, le ossa, eccetera, e poi ha visto che l'impossibilità di un colloquio era difficile, impossibile, allora è venuto fuori il concetto di morte come distacco definitivo. Il pericolo è la morte e di fronte al pericolo che cosa l'uomo ha sempre fatto, ma che cosa facciamo noi anche oggi? E volendo evitarlo e volendo fuggirlo o allontanarlo, vogliamo essere potenti, vogliamo avere potenza, ma avere potenza vuol dire, una volta che poi a un certo momento ci sentiamo abbastanza impotenti, avere potenza vuol dire allearsi con ciò che crediamo essere la potenza suprema. E questa è una cosa che facciamo anche oggi, anche nell'industria, nelle aziende, sul piano politico, sul piano affettivo, ovunque, vogliamo avere potenza e l'alleanza è, ripeto, con chi crediamo, con chi si è creduto che fosse di volta in volta la potenza suprema. E' qui che incomincia ad emergere ciò che poi è stato chiamato Dio, l'alleanza con la potenza suprema, che ha cambiato volto nel corso della storia. Dapprima la potenza suprema è quella appunto che è svelata dal mito, è il Dio del mito, potremmo anche dire il Dio della poesia, se teniamo presente che poesia, parola greca vuol dire poiesis, produzione, quindi invenzione di un senso del mondo, quindi si inventa un senso del mondo che contiene ciò che noi crediamo sia la potenza, ciò che loro, gli antichi, credevano che fosse la potenza maggiore. Ci si allia con questo Dio, però la posta in gioco è troppo importante per noi per accontentarci del mito o della fede, perché il mito o la fede o la religione assicurano, promettono, ma l'assicurazione non è accompagnata da una evidenza, da una fondazione, da una assicurazione che tolga il dubbio. Ecco che allora a un certo momento, l'amico Reale è stato molto perspicuo nell'indicare, parlando di Platone e di Aristotele e sottintendendo il concetto al quale nintendo riferimi ora, è inevitabile che ad un certo momento l'alleanza con la potenza dovesse essere l'alleanza con ciò che è la vera potenza. Cosa me ne faccio di un Dio se non è un vero Dio? Il Platone nel fedone dice che cosa me ne faccio della virtù se non è virtù vera? A rete, a lezesse, parla di fortezza, giustizia, temperanza, queste sono virtù da schiavi se non sono vere. Di qui la sequenza è proprio molto tellurica, è proprio, ripeto, umana, troppo umana, molto umana. Abbiamo paura, la paura ci fa alleare con la suprema potenza, la suprema potenza inizialmente a scelta si rivela debole e allora si va alla ricerca, ecco di questa parola che sembra così, un monopolio dei filodofi, ma è una parola anch'essa molto tellurica, della verità, del Dio vero. Poi incomincia un tempo in cui questo quadro grandioso che l'amico reale ha tratteggiato, cioè il tempo in cui l'alleanza con la suprema potenza viene messa in discussione da chi? Soprattutto dalla filosofia e questa alleanza col Dio vero incomincia a tramontare. Ma se noi oggi andassimo fuori in strada e compulsassimo un po' la gente che passa e dicessimo loro di che cosa ti assicura di più, di che cosa ti fidi di più, è vero, oggi siamo in un tempo di recupero del cristianesimo e soprattutto del cattolicesimo, sono quei recuperi però e mi metto, e dico questo sapendo di essere d'accordo con la Chiesa stessa e dirò perché, sono quei recuperi in cui se un titolo di borsa sta scendendo e non è che scenda con movimento uniforme, scende sinusoidalmente, cioè ha dei momenti di risalita, di caduta. Oggi noi stiamo vivendo all'interno di questa discesa dei valori tradizionali, all'interno di questa discesa del modo in cui è stato inteso il Dio vero, ecco oggi noi stiamo vivendo un momento di risalita del titolo ma all'interno di un processo globalmente in diminuzione, in discesa. Potremmo dire se il senso della parola Dio è colui che ci salva, perché è potente, non c'è mai disgiunzione tra salvezza e potenza, anche l'uomo più mistico che dice a Dio apro le braccia, vieni perché tu mi salvi, anche l'uomo più mistico vuole addirittura quella superpotenza che è l'eternità dell'anima, la salvezza eterna, vuole la salvezza eterna. se Dio è la salvezza e potenza, c'è una parola antica greca che nomina innanzitutto il Dio che è daimon, se mi ricordo dopo ritorno su questa parola, se il Dio è la salvezza e potenza, allora potremmo dire che il primo Dio, cioè il Dio mitico, è stato il primo tecnico, a un certo momento i greci Dio lo chiamano demiurgo e la parola demiurgo la possiamo tradurre perfino con lavoratore, lavoratore tecnico, Ergon, colui che produce rispetto al demos, al popolo. Il Dio mitico è stato il primo tecnico, oggi se chiediamo appunto alla gente come avevo incominciato a dire prima, di che cosa ti fidi tu soprattutto oggi come fattore di potenza? Ecco, nonostante il saliscendi di cui parlavo prima per quanto riguarda la storia della tradizione, si risponderebbe è la tecnoscienza, è la tecnica guidata della scienza moderna, non c'è più la figura dello sciamano, dello stregone, del sacerdote che costituisce anche la forma originaria del medico, il medico, ricordiamoci che la medicina ha dei debiti potentissimi rispetto al cristianesimo, le prime forme di ospedalizzazione risalgono proprio la tradizione monacale, la tradizione cristiana, se dunque oggi la tecnica, la tecnoscienza è considerata nonostante i momenti di risalita della religione, se è considerata come la forma suprema di potenza, allora se il dio mitico è il primo tecnico, la tecnica è l'ultimo dio, hanno la stessa natura, hanno la stessa essenza, ritorniamo sulla parola daimon che però è accompagnata perché il linguaggio ci insegna una quantità di cose, prima di imparare ciò che i linguaggi dicono di qualcosa c'è da imparare intorno al modo in cui i linguaggi si costituiscono, il fatto che il greco dica zeos è già un insegnamento potente rispetto a ciò che con questa parola il popolo greco dirà, cioè il modo in cui si costituisce il linguaggio è una forma di sapienza ancora più originaria di quella che con il linguaggio si può esibire. daimon zeos delle volte si dice che il cristianesimo è inventato il concetto di Dio padre no non è vero perché c'è quella grandiose espressione greco-latina Jupiter ma cosa vuol dire Jupiter? qui bisogna scomodare un po' la glottologia perché c'è una radice indoeuropea Dieu i francesi dicono Dieu ma è scritta Dieu che è contratta diventa You Jupiter vuol dire Dieu pater Dieu pater il corrispondente greco è Zeus pater prima ancora che i Vangeli con tutta l'importanza che hanno i Vangeli parlino di paternità di Dio e c'è la sapienza greco-romana che parla di Jupiter o Zeus e sentono Zeus Deus padre ma che cos'è questo Dieu è una radice indoeuropea lo sanno che almeno ancora oggi lo scrive nonostante qualche eterodosso che l'insieme delle lingue indoeuropee è riconducibile a un ceppo originario proto-indoeuropeo in relazione a quando sono state rilevate delle forme archetipiche non sono tante una di queste è appunto Dieu Dieu indica il celeste il cielo la luce il luminoso e allora il cielo è padre ma come mai dalla parola Dieu che insieme ad altre radice Dieu che insieme ad altre sta alla base del significato della parola Dio come mai si parla del celeste dopo che noi prima abbiamo detto che Dio è la potenza salvezza ciò che viene creduto potenza salvezza e c'è un motivo perché noi siamo potenti quando siamo in luce all'oscuro non si esercita potenza allora incominciare a pensare anche il linguaggio che incomincia a pensare al divino come luce è una conferma del fatto che il divino è inteso come potenza se posso indugiare ancora un momento su questa a mio avviso interessantissime interessantissimi insegnamenti linguistici c'è un'altra radice indoeuropea molto contestata che è la radice scritta D-H-E-S DES per esempio Benveniste dice che forse è da trovare in questa radice il significato di ZEOS DES però DES e qui i glottologi sono d'accordo alla radice DES sono riconducibili parole come FESTA FESTA ma anche parole come FEMINA se noi teniamo accostate la radice D-H-E D-H-E-S senza violare perché si arrabbierebbero senza violare la distinzione glottologica tra le due radici ma sentendo la loro vicinanza e allora ciò che indica il luminoso è contiguo a ciò che indica la festa il festivo a ciò che indica anche FEMINA la parola greca ZELE è la mammella allora certo ciò che inizialmente l'uomo sente come il più potente diventa verosimile la tesi che ciò che il neonato avverte come la vita stessa la radice della stessa sia il seno materno sia il seno materno DES FESTA FEMINA ma anche si riconduce la parola FELICITÀ FE questo FE che è assimilabile a DE questo vuol dire che non è che si cerchi l'alleanza con la potenza suprema così ma perché la potenza suprema dà festa dà felicità e innanzitutto la dà essendo la fonte ecco il seno materno a questo punto io concluderei volendo fare una previsazione perché a volte sono equivocato probabilmente l'organizzazione ha scelto l'amico reale e il sottoscritto perché da una parte parla il filosofo cattolico e dall'altra parte parla il filosofo non cattolico è buona l'occasione per rilevare che no questa contraposizione non ha proprio significato perché sia gli amici di Dio sia gli amici della potenza suprema sia i nemici di Dio hanno la stessa anima quindi da parte mia non si tratta di prendere posizione che lo scuso se mi riferisco al sottoscritto ma siccome anche recentemente l'equivoco è perdurato non è che il sottoscritto prenda posizione per l'ateismo o la negazione del cristianesimo o cose di questo genere ma vede la comunanza tra l'amicizia e l'inimicizia per Dio e perché ma perché sia l'amico sia il nemico di Dio hanno in comune questo che è essenziale e che è la convinzione appunto dalla quale siamo partiti prima che proprio perché l'uomo è sottoposto al pericolo della morte e del dolore proprio per questo le cose sono un diventare altro da quello che sono e quando arriva a farsi innanzi il pensiero greco questo diventare altro da quello che sono significa il loro diventare nulla e uscire dal nulla cito una frase di Tommaso d'Aquino che vale molto più oro di quanto pede perché pesa poco tra l'altro perché è uno scritto ma concettualmente vale tonnellate di concettualità ecco certo parla della creatura creatura dice per sé considerata nil est ecco si pensi a questo concetto semmai lo svilupperemo dopo ma vorrei incominciare a proporlo perché ci si pensi sopra di per sé considerata dice anzi sibirelicta lasciata cioè considerata come tale la natura nil è nulla è niente è come se noi dicessimo il non niente è niente e perché è niente ma perché esce dal niente e ritorna nel niente ora dico sia gli amici sia i nemici di Dio tengono fermo questo concetto abbiamo sentito recentemente Dawkins il quale parlando dal grosso metafisico diceva il mondo è si creato dal nulla ma non c'è un creatore che lo crei ora lui credeva di dire quando l'ha detto poco tempo fa credeva di dire qualcosa di molto originale ma è quello che la cultura contemporanea va dicendo compresi tutti i nomi che tu hai fatto Heidegger Parison Kierkegaard Hegel eccetera tutta la cultura contemporanea in vari modi va dicendo gli amici di Dio dicono per esempio Hegel perché la creatura esca dal nulla occorre un creatore i nemici di Dio dicono perché esca dal nulla non occorre alcun creatore ma l'essenziale è questo uscire dal nulla e andare nel nulla in questo senso dico che sia Dio sia l'antidio hanno la stessa anima sia il Dio che fa sì che la creatura sia nulla anzi incomincia ad agire sulla base della nullità della creatura sia l'antidio cioè il laico poniamo l'anicio che dice che Dio è morto sia il laico anche lui afferma la creatura è nulla le cose sono nulla noi voi i nostri affetti i nostri pensieri di per sé sono nulla e anche lui tiene ferma l'essenza che è tenuta ferma dal Dio ecco perché il discorso che mi sono permesso di richiamare loro non ha nulla a che vedere col fatto che da una parte ci sia il cattolico e dall'altra parte ci sia il non cattolico invece l'ha messa in discussione dei due lottatori che stanno tutti e due dalla stessa parte certo ma io vorrei adesso qui chiarire che a nome dell'organizzazione per carità sono un moderatore quindi ne faccio parte che quando la fondazione ha scelto i nomi non ha pensato di contrapporre così un po' televisivamente il cattolico e il non cattolico ma ha pensato di mettere a confronto diciamo così due persone che nascono in un'esperienza comune e l'esperienza comune è dovuta anche alla vostra amicizia io ti devo riferirmi alla possibilità che qualcuno intendesse che non che voi intendesse ecco io dicevo eravamo in buona fede ma soprattutto c'è un fatto che avete sostanzialmente però lei ha impedito che mi battessero le mani no ma adesso guarda ma diciamo che l'avrebbero fatto alla fine con anche un caso entusiasmante no 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 per carità io non voglio professore è impossibile rubarle questo diritto volevo dire che è anche un desiderio di rivedervi insieme dopo tanti anni perché l'ultima volta che mi è capitato di moderare un vostro incontro è stato dieci anni fa e tra l'altro per aver avuto un vostro incontro ho dovuto anche sorbirmi a un concerto per tromba no perché un un altro per riunirvi ha suonato anche è pur vero che è stata eseguita anche una sua sinfonia ma però è stata fatta in una variazione ecco quindi però ecco era anche questo desiderio rivedere voi con diciamo così anche un un passato comune del resto quando Reale ha tradotto la metafisica lei insegnava ancora in cattolica e sostanzialmente in quel momento stava discutendo io poi guardi sono personalmente convinto al di là delle citazioni che si possono fare eccetera di quanto rispose l'abbè Pier a un giornalista i giornalisti si sa sono molto superficiali infatti bisogna sempre difidare dei giornalisti lo posso dire perché faccio parte della categoria perché andò dall'abbè Pier e gli disse vorrei farle un'intervista però sappia che io sono ateo e l'abbè Pier prendo le braccia e disse guardi che tra noi due chi è ateo lo può subire soltanto Dio e quindi non si preoccupi non lo sappiamo ecco quando si dice io sono ateo sono credente lo diciamo sempre così come una pura convenzione diciamo una convenzione nostra ma al di là di questo io vorrei adesso ripassare poi volevo dire che le vostre aperture sono infinite io ricordo che il professore è stato invitato l'anno scorso in Vaticano proprio il convegno su Dio e hanno dibattuto su un suo libro voglio ricordare che il professor Reale nella sua collana che dirige per Bonpiani che tra l'altro è diventata la più grande collana europea non soltanto per numero ma anche per la quantità la qualità dei filosofi ospita anche degli atei e delle persone che sono sostanzialmente considerate dei classici dell'antireligione ospita ovviamente anche delle opere religiose però l'apertura che c'è nei testi a fronte e nei classici del pensiero occidentale di Bonpiani mi sembra totale quindi il vostro dialogo poteva aver luogo senza diciamo interrompere questa diciamo questa apertura professore Reale però adesso tocca a lei ha sentito il professor Severino e quindi ma io riproporrei la domanda che gli ho già fatto dieci anni fa però bisogna ripeterla perché purtroppo non tutti erano presenti ecco e però devo anche dire che come forma e presentazione della propria tesi non appare nella storia nella filosofia Severino è il più bravo di tutti anche poeticamente allora io dico sempre quello che sostieni per me non è vero ma hai detto del modo più perfetto che sia stato detto finora questo è fuori discussione poi hai messo anche hai tradotto tragedie le hai messi in ecco dimostrando e poi Leopardi ma la domanda è questa anche Eschio Eschio appunto i tragici e la mia domanda è questa e io quando leggo certi tuoi libri sono tutti molto belli e scritti con uno stile perfetto io trovo la religiosità l'essere è il tuo Dio e parli con l'essere e dell'essere come un mistico parla di Dio io credo che qui Hegel fosse qui Hegel ti direbbe questo sa cosa dice Hegel che il misticismo corrisponde esattamente a quello che lui chiamava speculativo che è identificazione del soggetto con l'oggetto ecco la sintesi degli opposti allora ecco quando leggo queste pagine dico io trovo quasi ecco mistico ma nel senso Hegeliano il tuo rapporto con l'essere e cosa mi risponderesti a questo cioè c'è un legame oltre che puramente intellettuale appunto in questo senso forte di religioso identificazione mistica appunto fra te e l'essere eh ma c'è una difficoltà della filografia che riguarda proprio la filografia perché se qui ci fosse uno scienziato lui potrebbe enunciare una formula e se il pubblico dice ma è proprio così lo scienziato dice beh non vedete che i satelliti che girano attorno alla terra quindi si farebbe forte delle proprie applicazioni pratiche se ci fosse qui un uomo religioso la religione enuncia immediatamente non ha bisogno di giustificazioni o ci credi o non ci credi da ultimo anche tu Kirchner da ultimo c'è il salto è un salto il filosofo si trova in condizioni più difficili perché se come in tutti questi casi che sono molto simpatici e interessanti e poiché in tutti questi casi si devono enunciare delle tesi e allora il filosofo fa la figura del del mistico o dell'uomo religioso o dell'uomo fideistico perché enuncia delle affermazioni laddove c'è filosofia soltanto dove c'è la fondazione e anche la fondazione tra l'altro di quello che dici tu quando dici di non essere d'accordo con quello che dico io perché dovresti mostrare perché non sei d'accordo se intanto che non lo mostri è come se non lo dicessi ma adesso ti do la controprova ti do la controprova allora è bene che sappiate che Severino è allievo di Montadini che era un grande senza fuori discussione e la posizione sua metteva in crisi il professor Montadini sapete ed ero presente a lezioni ho visto come Montadini risolveva il problema andiamo per votazione è per votazione allora l'esperienza attesta il divenire e andarne al non essere sì o no alzi la mano chi è d'accordo quindi vede che allora nel momento ultimativo che cosa vuol dire andare per in questo modo per fede cioè credi nell'esperienza sì o no credi che l'esperienza ti dica il non essere oppure ecco è finita la filosofia ma tu una volta hai dato una risposta hegeliana terribile te la ricordo l'esperienza dice questo peggio per lei t'hai detto così è bravissimo e questo è proprio Parmenide avevi appena pubblicato quel bellissimo tuo articolo tornare e tornare a Parmenide allora peggio per lei ecco allora questa è la fede detta in maniera come in maniera sublime in questa maniera era una battuta ma molte volte nella negazione del non essere delle tue pagine c'è questa terribile abilità della parola perché tu sei maestro della parola è fuori discussione la sai usare e io sento Dio che bussa perché dice qui dobbiamo parlare di Dio no ma questo devo dire l'essere allora ecco a mio modo di vedere la mia domanda il tuo Dio è il tuo essere oppure non ti senti di chiamarlo Dio se qualcosa fosse mia non varrebbe la pena di parlarne se il discorso che tu una volta hai chiamato maschera d'oro va bene fosse mio non sarebbe d'oro se un pensiero è di uno di noi poiché ognuno di noi è condizionato storicamente è un pensiero condizionato storicamente quindi infondato quindi questa è la prima la prima osservazione la tua domanda qual è che mi sono dimenticato se il tuo essere Dio no ecco vuol essere non lo è vuol dire non il mio essere Dio vuol dire l'essere di cui parla è sottoscritto è Dio tu vuol dire questo no perché se no pensano al mio essere Dio no ecco ripeto l'essere a cui si rivolgono i miei tra virgolette scritti essere con la S minuscola e l'essere con la E maiuscola se volete dargli il nome Dio c'è qualcuno che fa qualche teologo qualche teologo cristiano De Verbis non è diputando lo si può chiamare come si vuole ma in questione però il significato se per esempio il teologo Barzaghi fa un'operazione di questo genere secondo me non è non è pertinente perché ti battezzo pisce ti battezzo pesce ma tu puoi essere sasso cavolo o qualche altra cosa non non si può giocare con le parole ecco perché ma perché stavo dicendo prima sia e torniamo a parlare di Dio sia Dio sia l'antidio hanno in comune la radice uguale la stessa radice ecco hanno in comune la stessa anima ora quando si dice le cose di per sé Tommaso creatura per sé considerata es ni si considera si considerano le cose come nulla sì ora pensare che le cose siano nulla non è forse la forma originaria e qui chiedo scusa a chi ha la fede e fa bene tenersi la sua fede ma pensare che le cose siano nulla non è forse pensare alla forma originaria dell'omicidio io uccido perché innanzitutto ho dinanzi la nullità possibile effettuale di ciò che tolgo di mezzo allora tu mi dici ma non possiamo chiamare il tuo essere Dio non voglio non voglio mescolare l'essere con l'origine dell'omicidio dell'enticidio del deicidio stesso il modo in cui si è intesa la potenza mi ricollego al discorso di prima quella potenza l'alleanza cioè con la potenza suprema salvifica la potenza che richiede luce per essere potente quella potenza ha in sé il veleno dell'annientamento e per questo che stiamo attenti noi vogliamo salvare il mondo ma se vogliamo se vogliamo salvarlo dal suo avvelenamento usando il veleno non non riusciremo a salvarlo e quello che voglio dire è questo tu non sei ateo questo non mi pare ateo ecco ma ti ho detto che sia l'ateo sia il non ateo sono condividono la radice della nullificazione dell'omicidio del deicidio ma tu dovresti rispondere su questa non ti sembra che per uccidere qualcuno si debba innanzitutto considerarlo come nulla io amplio il concetto di Dio nel senso cristiano nel senso della rivelazione ecco leggo esattamente le parole di Teresa di Calcutta e poi di Kierkegaard che dicono per quale motivo io do ragione a pareison e cioè dell'antropomorfismo e quindi siamo tenti di non usare la parola ecco Dio in maniera antropomorfica dice è una bellissima poesia chi è Gesù per me all'inizio alla fine sono aggettivi superlativi ma a metà il cuore dice questo Gesù è l'affamato da nutrire Gesù è l'assetato da dissetare Gesù è l'ignudo da vestire Gesù è il senza tetto da ospitare Gesù è l'ammalato da curare Gesù è la persona sola da amare Gesù è un essere umano che non è voluto ed è rispinto da accettare Gesù è il lebroso cui lavare le ferite Gesù è il mendicante cui donare un sorriso Gesù è l'alcolizzato che va ascoltato è il malato di mente da proteggere è il piccolo che va abbracciato Gesù è il cieco cui far la guida Gesù è il muto cui dare è la nostra parola Gesù è lo zoppo con cui camminare Gesù è il drogato cui essere amico è la prostituta che va allontanata al pericolo Gesù è il prigioniero da visitare ecco direi ma allora uno dice ma e allora il filosofo cosa dice bene vi dico come Kierkegaard che secondo me è il massimo il più grande dei filosofi cristiani del secolo scorso direi che ha vissuto la fede dice esattamente questo dice che Cristo è venuto nell'abbassamento è disprezzato per questo abbassamento da molti l'invitante è Gesù Cristo in quanto umiliato ed è lui a pronunciate queste parole di invito non le pronuncia seduto sulla gloria quindi non è neppure ecco dice vedete qui è del tutto comprensibile solo se tu lo pensi nel suo abbassamento e poi aggiunge quando a lanciare quelle parole fosse stato un bel uomo e vi ricordo che da Isaia risulta che era brutto tra l'altro quindi proprio chiaramente fisicamente parlando fosse un bel uomo gradevole con voce sonora in modo che la sua voce armoniosa si diffonde un uomo in seta che ognuno considera un onore e un vanto tutti correrebbero a lui ma questo sarebbe paganesimo e Cristo è l'abbassamento questo è il punto allora qui è chiaro che le categorie razionali raffinatissime più direi potenti metafisiche non possono rinchiudere questo messaggio ecco e allora qui il rapporto secondo me è insuperabile di Agostino se tu hai una fede la puoi comprendere e dalla comprensione della tua fede la puoi accrescere ecco ma in circolo erbeneutico in questo modo sono due forze ecco ineliminabili tu negli la fede e la riduci alla ragione ecco io ti capisco molto bene ma la tua posizione è molto forte e però il problema è questo vada che anche tu nel tuo essere hai una fede è fortissima ma serve la fede in cui consiste la filosofia è una forza potente con cui scrivi con cui difendi la tua tesi no io non credo è una tua fede quello che tu credi no perché qui c'è un grosso equivoco ma passeremo qualche ora qui a dire perché il rapporto fra fede no se tu metti le cose nei termini che l'individuo pensa la verità o come mi pare tu hai detto prima io posseggo la verità no non ne usciremo perché nessun io può possedere la verità è la verità è il luogo in cui si può parlare di te di me di un io è la verità ma chi parla della verità è l'uomo è il punto il linguaggio indica amo questa immagine il linguaggio è il dito che indica la luna ma la luna è la verità non il dito il dito non so neanche se sia capace di far capire le cose più semplici quando parliamo in italiano chi ti dice che io sto parlando in italiano allora questa sì che è una fede prendiamo un impistemologo Kun il grande Kun dice esattamente questo quando cambia il paradigma scientifico lo scienziato passa dal paradigma in crisi al nuovo per fede sì ma comunque guarda che tutto quello che stai dicendo o è una fede oppure ha la presunzione di essere invece un discorso incontrovertibile se tutto quello che stai dicendo è una fede ne prendo altro ce ne sono tante altre e invito ad andare cauti con la fede perché c'è la fede islamica c'è la fede cristiana e che sembra che facciano difficoltà a mettersi d'accordo e arrivate allo specifico per esempio Cristo è o no figlio di Dio lì non so come possa procedere il dialogo il dialogo procede sì dandosene cioè prendendosi ma in tutto quello che il filosofo dice ha una forza potente la sua ragione il suo logos però non hai risposto alla mia domanda tutto quello che tu dici intendi dirlo da fedele o da filosofo è qui il punto che non si possono togliere è un circolo ermeneutico come dice Agostino non c'è l'una senza l'altro in una dinamica circolare allora dire una volta sul Corriere ho scritto questa cosa qui a proposito di una posizione estremamente interessante di Papa Ratzinger dire quello che dici tu che Ratzinger dice che c'è bisogno della ragione c'è bisogno della fede vuol dire senza saperlo sottoscrivere la tesi scettica perché se la ragione per essere ragione ha bisogno della fede vuol dire che la ragione è inconsistente in quanto tale questa tua posizione è negativa è lo scetticismo è razionalizzare e negare quella forza potente che c'è in tutti e anche in te è molto forte non mi hai risposta non la puoi negare non le dico un'altra grossa ma siccome non ci vogliamo bene quindi le posso dire questo è sicuro c'è stato un periodo in cui tu non eri allontanato dal cristianesimo prima delle lezioni tu dicevi una preghiera in modo assolutamente perfetto catturavi tutto e tutti lo dicevi con la fede quindi è ovvio beh a questo punto bisogna però che dica due parole in proposito sì ti ricordi questo ma certamente a un certo momento è emerso che un discorso oggettivamente incompatibile con la fede eh quel discorso che prima era considerato dal sottoscritto come compatibile con la fede a un certo momento è apparsa la sua incompatibilità ecco questo è il motivo ma io sostengo che non è diventato incompatibile con la fede ma con una fede e invece ne hai assunto un'altra dell'essere tu puoi dire tutto quello che vuoi cosa accadeva accadeva professore vediamo di riepilogare per far capire anche coloro che ci stanno seguendo che lei prima dell'elezione diceva una preghiera è così ma è come forse anche perché io tuttora do del loro agli studenti penso che ho dato del loro anche a loro certo ecco sono formalista alla cattolica c'era l'invito a dire non l'obbligo l'invito no c'era l'invito a dire questa preghiera dirò che io sono stato allevato in modo pacatamente cattolico perché mio fratello per esempio era studente che frequentava la normale di Gentile quindi io sentivo ho studiato dei gesuiti come russo e come Heidegger ho studiato dei gesuiti ma sentendo però mio fratello io avevo allora 10-11 anni mio fratello che mi parlava di Gentile da parte di mio padre che era generale dei bersaglieri e quindi siciliano e quindi tiepidamente cattolico perché i siciliani sono cattolici a mano di loro e questo era il clima in cui sono cresciuto e in cui dunque non non vedevo avendo primariamente in mente la preoccupazione filosofica non vedevo nella religione un qualche cosa che stesse come un bastone nelle ruote a un certo momento è venuto fuori che era un bastone nelle ruote ma questo senza che il discorso filosofico venisse a cambiare è venuto a cambiare il giudizio storico sulla compatibilità tra quel discorso e l'atteggiamento religioso ma quello che tu hai detto è vero ci hanno invitato insieme per riproporre questo dialogo io sono in debito con Dio siccome dieci anni fa ha avuto molto successo ha detto proviamoci ancora ma se andiamo avanti non la finiamo più il professore stava dicendo in debito con Dio sì ho detto che mi sento in debito con Dio perché abbiamo parlato di queste cose invece di continuare a parlare di Dio beh grosso modo ci siamo girati attorno però professore però è così grande che senta io però riprenderei un attimo perché adesso ovviamente data anche la vostra amicizia la vostra lunga frequentazione è inevitabile che ci sia stata anche un po' di questa dispersione io riprenderei magari l'ultima riflessione che possiamo lasciare al pubblico l'ultimo pensiero da parte del professor Reale e da parte sua lei concluderà e il professor Reale magari può adesso dire qualcosa non so lei può partire da qualunque punto desideri insomma anche da un consiglio di lettura oppure di approfondimento oppure specificando alcune cose di questa serata a mio modo di vedere ecco l'uomo ha due forze potenti da cui non esce la ragione e la fede in qualche cosa non la fede non può non averla e non solo ma come spesso mi viene dire se io esaminano la vita di ciascuno di noi di una giornata l'80-90% delle cose le facciamo per fede per fede ecco quindi ecco e allora non solo ma la fede ha un valore conoscitivo a suo modo conoscitivo allora la dinamica è questa tu hai la fede solo nella trascendenza o no però ne hai una ogni uomo che si rispetta ha una fede e una fede molto forte in quello che crede in quello che fa e in quello che vuole allora è questo l'invito a pensare esattamente a questo e io ritengo che l'illuminismo abbia avuto un enorme merito ma un enorme demerito quando è diventato assolutista negando tutto quello che non è ragione e tant'è vero che la storia va avanti e vedete tutti in che maniera non è la ragione a predominare ma la ragione è presa come strumento di passioni di fedi ecco in sostanza allora ecco è qui il punto se è vero questo allora la posizione hegeliana che era esattamente quella del filosofo non plus ultra che riteneva di essere Dio tutto ciò che la fede ti dice dice lui è vero però va superata e inverata con la filosofia con il logos la mia posizione invece quella circolare agostiniana no sono sullo stesso piano in maniera dinamica crescendo l'una cresce l'altra e devono in ogni modo avere questa forza questa simbiosi ecco la posizione ecco che io dicevo quando io leggo le tue pagine vedo che tu credi in quello che è la verità tu presenti con una forza potente perché se non hai quella forza lì non puoi scrivere quelle pagine così belle ecco invito tutti a leggere ritornare a Parmenide che è stato il diciamo così la rivoluzione più poi si è andato avanti è sviluppato ma quella è è un saggio in cui tu metti avanti una potenza tale che poi hai sviluppato e hai articolato in vari modi diciamo anche poetici ecco allora diciamo l'uomo avendo queste due forze oggi è sotto per una serie di ragioni che tu hai anche descritto molto bene cancellano la fede senza tener conto che quando cancellano la fede spesso credono di parlare della fede della trascendenza e non dicono che invece anche se tu non hai la fede della trascendenza vai avanti con una fede in quello che credi immanente e che è incancellabile perché è metà dell'uomo questa è la mia posizione e allora diciamo che chi ha una Heidegger ha perfettamente ragione in quello che dice io non tu hai scritto uno dei tuoi primi libri su Heidegger e lo conosci perfettamente pensi che abbia ragione Gadamer ha cercato il suo Dio per tutta la sua vita e infatti una delle sue interviste finali era che solo un Dio potrà salvarci ecco quello che è presentato da molti ma guardate che lo leggo ancora anche di giornali il famoso ateismo di è un ateo eccetera eccetera allora dicevo il compito dell'uomo di oggi è di rendersi conto che se non ha una fede trascendente ne ha una immanente o alcune immanenti di cui deve tenere perfettamente conto perché è il modo di vivere dell'uomo la dinamica fede e ragione passioni ecco e direi che molto spesso la ragione è strumento usato in funzione e a favore di forze diciamo passionali ecco ed è quello che vediamo perché non ci intendiamo molte volte fra religioni diverse perché assolutizziamo e trasformiamo in maniera diciamo così integralista la nostra posizione quindi questo è vero ma comunque questo è allora un altro problema la conclusione mia è questa io do perfettamente ragione quindi a Kierkegaard e a Paraiso stiamoci attenti che molte volte quando parliamo di Dio lo antropomorfizziamo non diciamo più che ha occhi capelli eccetera ma lo chiudiamo in categorie raffidatissime ecco e un compito è proprio uscire da queste ecco bene grazie professore bene professor Severino a lei un po' la conclusione l'ultimo pensiero sono questioni aperte ovviamente mi verrebbe da fare da proporre molte chiose su quello che ha detto l'amico reale per esempio l'ultima cosa che hai detto sull'antropologizzazione di Cristo quando poco prima avevi letto che se curiamo gli ammalati curiamo Cristo se curiamo gli zoppi curiamo Cristo quello non è un antropologizzare non è? un antropologizzare? no no perché è un capovolgere esattamente ricordo al pubblico che non lo puoi immaginare che apparentemente abbiamo la stessa età ma lui ha un paio di anni in più tre e allora quando era talmente bravo che quando io ero l'ultimo anno uscivo ho sentito già un suo corso sul Fichte mi pare quell'argomento lì ed era già allora folgorante ecco ed ha continuato per tutta la sua vita lasciamolo lasciamolo terminare altrimenti no ma la tendenza di mettermi vicino a Dio perché poche volte riesce a mettere insieme due così è quasi impossibile anche perché non siete facili da catturare quindi non io però insomma stavolta ce l'ho fatta mi scusi ma ogni tanto devo combinare qualche marachella guardiamo ecco il discorso sulla fede è importante e io ho scritto parecchio sulla sulla prevalenza della fede nel nostro vivere quotidiano ma molto forse tu non lo conosci tutto questo aspetto del mio discorso c'è fede anche quando noi diciamo siamo qui alla fondazione del Corriere è una fede Agostino queste cose le sapeva molto bene molto bene sì infatti sì perché prevenceva che io sia nato ma è una fede perché me l'hanno detto gli altri estenderei il discorso fino a dire esiste il mondo è una fede esiste l'industria la politica eccetera questo non lo capiscono quelli che scrivono sempre e questo sarebbe interessante dirlo anche ai nostri amici politologi sul Corriere che si scrive sempre di politica o di economia sottintendendo che siano delle realtà indiscutibili sì invece no sono dei contenuti che si crede che siano realtà indiscutibili ecco e questo gli scienziati di scienze umane dovrebbero tenerlo molto più prevede non parliamo poi dei politici che non solo hanno questa convinzione dell'oggettività delle categorie di cui parlano ma ecco quelli sono cattivi filosofi perché mentre lo scienziato enuncia quello che dice con beneficio di inventario il politico non lo fa mai e accentua la fede al punto tale da evitare ogni dubbio perché è chiaro che dopo non sarebbe più votato un politico che dice ma forse io farei così è fallito in partenza quindi appartiene di chiudo la parentesi appartiene all'essenza della politica di mostrarsi fedele all'ultimo sangue ecco queste sono anche questo andrebbe detto agli scienziati di scienze umane ah sì resta il problema che se tutto fosse fede saremmo la posizione scettica ora prima hai citato Platone mi spiace non poter parlare di Pascal perché qui serve interessante sentire quello che dice il dottor Torre ma io sono parlerebbe moderatamente di Pascal dunque la fede non può essere la totalità del nostro sapere occorre che oltre la fede ci sia ciò che sa che cosa la fede è guarda che Platone ecco prima l'hai citato Platone una volta lo dicevo anche al dottor Torno per Platone l'uomo esce dalla caverna e vede ma vede incontrovertibilmente Platone usa alla fine del libro quinto della Repubblica usa la parola anipotetum non ipotetico per qualificare quel sapere che conosce l'esistenza del quello che lui chiama to pantelos on l'assolutamente sente e il to me da me on l'assolutamente niente ora questo quadro in cui si parla di Dio è molto positivamente e cioè si sa che cosa è Dio è il mondo della razionalità dell'idealità eccetera eccetera e questo quadro non è un quadro di fede quando Platone dice filosofo non intendo colui che è ancora nella fase di ricerca perché ancora non è riuscito a toccare la verità ma philein in greco vuol dire innanzitutto aver cura per quindi non trovarsi al di fuori della verità anche perché diciamolo questo se noi mettiamo la verità là e noi siamo qui il percorso che compiamo per andare da qui a là e là bussiamo alla porta della verità perché ci apra questo percorso è un percorso nella verità o nella non verità è nella non verità perché la verità è là andiamo a bussare allora se noi pensiamo alla verità come il punto d'arrivo di un tragitto che noi dobbiamo compiere per arrivarci non arriveremo mai alla verità perché compiremo ripeto percorreremo una strada che per defizione sta al di fuori della verità quindi o la verità è originariamente nell'uomo e tutto quello che ho detto prima io a proposito dell'enticidio sottintende una verità che è in ognuno di noi non è che salti fuori dal pensiero di uno e entri nel pensiero dell'altro ecco o la verità è originariamente presente nell'uomo oppure la kibusa non sarà aperta e ultimo codicillo che però meriterebbe altra considerazione se prima parlavo di dei cidio perché si pensa che le cose siano nulla allora qui l'errore è insieme all'orrore per non essere né nell'errore né nell'orrore e allora bisogna rovesciare è necessario rovesciare il discorso le cose non sono ciò che per sé considerate nil sunt considerate per sé sono nulla ma sono ciò che non può uscire dal nulla e non può ritornare nel nulla il che vuol dire sono eterne cioè tutto anche questo nostro incontro questo mio gesto e lo stato precedente lo stato susseguente e la totalità degli stati del mondo sono eterni questo è il contenuto di quella verità che sarebbe pietoso se fosse l'invenzione di tizio di calcio semplonimo o di un dio è la verità che ha all'interno di sé l'umano il divino e tutte queste considerazioni e tutte queste determinazioni l'invito è appunto a pensare che oltre la verità della ragione alla quale tu continui a riferirti cioè la ragione così come è stata pensata nella civiltà occidentale e oltre a quella ragione c'è una verità di tipo assolutamente diversa quella che dice tutto è eterno perché quella ragione alla quale tu ti riferisci sono d'accordo è fede anch'essa ma è fede perché non riesce a esibire la negazione della propria negazione e quindi tu puoi avere ragione rispetto alla ragione hegeliana rispetto alla ragione aristotelica rispetto alla ragione platonica ma c'è qualche cosa di più radicale che non è insegnato dai filologi non è insegnato dalla chiesa o da qualche ecclesia sia pure non cattolica o non cristiana è in noi siamo noi l'apparire di questa verità che meriterebbe ben alto discorso rispetto a questo indecente che io ho fatto adesso io vorrei vorrei poter continuare ma capisco che c'è una tirannia del tempo che dobbiamo rispettare e io vorrei ringraziare tutti voi che ci avete seguiti del resto avete sentito con un po' Vico Magnifico è stato con quante argomentazioni e quali maestri abbiamo avuto questa sera in particolare poi devo dire che così personalmente oltre che per motivi di lavoro sono molto vicino a entrambi ma con un affetto quasi da figlio al professor Severino perché poi abbiamo discusso eccetera e con un affetto della persona che deve sgobbare con il professor Reale anche figlio perché anche se ha due anni meno di me però c'è un problema che il professor Reale mi fa lavorare tantissimo cioè se io telefono al professor Reale subito immediatamente mi organizza qualche cosa invece con il professor Severino riusciamo sempre a mangiare magari la polenta con il cervo ecco questa cosa e ghiotto di polenta con il cervo ma a parte questo sono battute io volevo dirvi grazie per averci seguito questo incontro non avrà indubbiamente non doveva dare definizioni non doveva darvi certezze doveva soltanto così aprire alcune finestre illuminare interuni aspetti e voglio mostrare come due protagonisti della filosofia del nostro tempo lo possono fare lo possono fare con una storia che si portano appresso con un'esperienza con un amore che hanno per la filosofia e anche con questo viaggio intorno a Dio che continuano e è un modo come un altro per dire così è bello occuparsi di queste cose forse si è più uomini quando lo si fa da un punto di vista pratico io vi do appuntamento semplicemente a domani sera con l'ultimo degli incontri parleremo domani sera di ragione questa sera l'abbiamo un po' tirata in ballo ma lo faremo con Giulio Giorello e Sergio Givone e anche domani sera so che i posti sono esauriti ma so che anche qualche cosa si trova quindi a risentirci a domani grazie grazie